Ci troviamo qua a Ortona, sul comunale di Ortona. Stiamo perdendo 4 a 1, i nostri giovanissimi di Mister Giovanni stanno perdendo 4 a 1. Abbiamo preso un po' la gara sotto gamba, è finito adesso il primo tempo e in sostanza abbiamo preso male questa gara. La formazione scesa in campo è quasi il blocco dei titolari, con Ucci Daniele in porta, Federico Di Donato numero 2, Nicola Tenaglia 3, Lorenzo Coniberti detto Pitbull numero 6, Caporale Enri Emanuele numero 5, Nicolo D'Angelo numero 4, Emanuele Larnell numero 9, il numero 8 Riccardo Delbello, il numero 7 Ramonti Alessandro, il 10 Luca Rulli che ha realizzato l'Unica Rete a nostro favore, poi numero 11 Enrico Caporale. In panchina il secondo esordio della stagione per il portiere Massimini Diego Pio, dopo Mammarella Alex al numero 13, 14 Berardi Manuel, 15 Gabriele Gian Cristoforo, Franco Di Fresco il 16, Matteo Di Fresco il 17, il 18 Alex Mariamele, ecco stanno facendo il loro rientro in campo, perdiamo 4 a 1, ok.